Il nipote preferito della regina Elisabetta, Peter Phillips, si è aperto sulla perdita del principe Filippo e sulla lotta per non essere in grado di abbracciare sua nonna. Il duca di Edimburgo è morto ad aprile all'età di 99 anni ed è stato sepolto nella Royal Vault della cappella di San Giorgio al castello di Windsor. A causa della pandemia di coronavirus, solo 30 persone hanno potuto partecipare al funerale. In un'immagine toccante, la regina è stata fotografata seduta da sola nella cappella e si sono riversati i tributi per il monarca. Peter Phillips, il figlio della principessa Anna, ha affermato che non essere in grado di abbracciarla è stata una delle parti più difficili del far fronte alla perdita del duca di Edimburgo. Gli addetti ai lavori reali hanno a lungo affermato che Peter è il nipote preferito della regina. Il signor Phillips ha dichiarato. I nostri pensieri sono andati immediatamente a mia nonna. Abbiamo cercato di supportarla il più possibile. Tutti hanno visto l'immagine di sua maestà seduta da sola. Sarebbe stato lo stesso per qualsiasi altra famiglia. La parte più difficile è non poter abbracciare chi è più vicino alla persona che si è persa. È lo stesso per molte famiglie. Ci sono state alcune grandi tristezze. Ma allo stesso tempo devi cercare di togliere gli aspetti positivi da queste situazioni. Che si tratti di una nuova vita o di ricordi felici, è su questo che devi concentrarti. Poiché da allora le restrizioni di blocco si sono allentate, la regina ha potuto trascorrere più tempo con la sua famiglia e vedere i figli del signor Phillip, Savanna e Isla. Phillips ha dichiarato alla BBC. Sono eccezionalmente fortunati ad aver avuto due bisnonni che hanno vissuto tanto a lungo. Punto punto. I miei figli lo apprezzano sicuramente e sanno che è qualcosa di speciale. Ha continuato a descrivere il duca di Edimburgo come una figura estremamente influente nelle nostre vite. Il signor Phillips ha dichiarato. Era una figura estremamente influente nelle nostre vite e tutto ciò che riguarda la campagna, se vuoi, e la sua passione per tutto il paese, è praticamente dove si trovano le mie passioni. Ci ha insegnato tutto sulla produzione alimentare locale e sull'importanza della provenienza del cibo. Era un tale appuntamento fisso di tutte le nostre vite. Gli manca molto.